musica eccoci qui ragazzi in questo nuovo episodio di questa serie con marco saluta saluta va bene ragazzi ce la fai non buttare vetro no voglio che lo calpesti e ti fai male ok la tosse un pochino se n'è andata amore il momento sul microfono ed è da lunedì che non registro io mannaggia appena detto è stato se n'era andata via eravamo rimasti con cercarci una cava giusto ma io sono senza spada faccio la figura del cretino aspetta no no aspetta 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 mi faccio un piccone e una spada te ce l'hai il tuo picconino bello bello picconino spadina una torcia sola sfido a uscire guerra comunque ragazzi se vedete che riesco a fare dei fail impossibili come cadere da da altezze gigantesche o cose del genere portate pazienza ma è un po' che non gioca e non registro ed è sempre colpa tua anche se cado io si è sempre colpa mia certo cioè perché in poche parole te cadi da un'altezza di 128 immaginiamo che non può essere un survival cadi da un'altezza di 128 e la colpa è mia si c'è problemi oh ho trovato del guarda e ti prendo a creare picconate sul cranio si dall'argilla della clay con cosa si trova argilla con la pala vero? si ma anche senza pala io sto usando la torcia vabbè dai basta così no no pigliamola tutta no posso fare 3 blocchi di mattoni se è un pezzo di argilla d'acqua da un mattone cuocendolo 4 mattoni fanno un blocco di mattoni lo so eh lo so marco creativity mod abbracciamo il cactus marco vieni aspetta sto prendendo l'ultimo per le cose da fare in hard mod abbracciare un cactus fare la guerra a palle di a gavettoni con un cactus oppure come abbiamo tirato fuori io e marco chiedere a presente a quelli che sponsorizzano tipo che non so se vai a al centro commerciale che trovi quelli la che ti vendono tipo ti fanno l'offerta di sky si si ecco vai la lì chiedi scusi do star cesso versione ruggiero decendi far cadere la sabbia che figata perchè spona ad altezze che devono cadere però non cadono devi per forza spaccare gli blocchetti vicino ah che figata how are you comunque dovevamo cercarci una caverna io sto vagando in mezzo alla sabbia io ho già perso marco comunque io sto vagando in mezzo alle liane trovo una pecora nera mi sta antipatico e quasi quasi la ammazzo ma qua non c'è c'è il nulla un nuovo comunque ragazzi vi avevo detto nei feed che e facevo una nuova intro e per il nuovo gioco vi dico ragazzi faccio direttamente prototype 2 a luglio quando uscirà per pc perchè a luglio esce per pc quindi lo faccio direttamente un gameplay sull'altro gioco prototype 2 a luglio tanto il 22 io finisco gli esami il povero marco li finisce il 28 se non sbaglio eh sì 28 certisco la molti lei è quello ma perchè sto spaccando dalla sabbia senza motivo che sei scemo marco ma te riesci mai a seguirmi quando cerco qualcosa no no nella neve ah no ho trovato uno schifo sfigato saltelliamo cosa ridi non ho fatto niente stai per vomitare davanti al microfono e non hai fatto niente bello altra sabbia da far cadere vai ho trovato forse forse una cava o forse forse no se l'hai trovato io mi teletrasporto non me ne frega niente o forse forse no ok dopo aver fatto cadere tutta la sabbia mi sento realizzato anzi quasi tutta la sabbia perchè proprio sentirsi realizzati a far cadere la sabbia ok e di cui cioè io mi sento realizzato quando faccio cadere la sabbia con questa missione completata ribalta la mucca da perchè il sole non prende il sole no mi sono segnato altre domande se vuoi te le dico tutte marco qui non c'è nulla a te l'ho ho già detto i tuoi fan quattro gatti che ti seguono tipo del genere quattro gatti che mi seguono vi sta insultando eh marco vi sta insultando eh vabbè prendetevela con lui ammazzatelo fatelo fate quello che volete ho diretto al mio avvocato forse unico problema non ce l'ho un avvocato vabbè c'è sempre l'avvocato delle cause perse però di quei quattro gatti moltiplicali per venti e togli uno eh? 79 ah! non so come mai sono 79 grazie a tutti ragazzi comunque prego tu non c'entri ok? so chi ti sei iscritto al mio canale e non mi segui mai come no se li faccio con te i video ma non mi segui mai li fai ma non li segui e grazie al cavolo se li faccio cos'è che devo seguire? ma forse non è che li faccio solo con te no con chi li fai? con Pierluigi? non li faccio con altra gelo li faccio con il mio amico immaginario ah fuffi si si fuffi fuffi pepito si dice fuffi che io ritorno verso casa forse ricordandomi dov'è? io la casa non so dov'è no no io ho in mente dov'è io no scherzavo? anzi non scherzavo forse si ah no non scherzavo marco vai verso casa si eh sai più o meno i punti della casa perchè io non li so aspetta ti do le coordinate vai h5 allora x113 aspetta la casa è un rettangolo di quanto è la base dell'altezza che ci calcoliamo l'aria lascia stare marco lo so che ho preso 10 in geometria ma lascia stare allora x113 più 113 si bene io sono almeno 170 y73 z197 z 197 ok stai diventando buio se non ti muovi a dormire io non posso neanche dormire come no tu ti fai comunque il pisolino si ma se non dormi anche te non fa diventare giorno eh lo so aspetta io devo avere della carne cotta si comunque forse era meglio che ce lo cercavamo prima di iniziare l'episodio di una bella caverna si in effetti senti facciamo una cosa di teletrasporto ma no no io vado infatti enna ok perchè si ti sei fregato il mio letto no me ne frega niente alzati marco io non ci posso credere mi mi vedete com'è geloso delle sue cose marco che faccia metto a cuoce ah ecco di qua metto a cuoce argilla fai tu anche perchè forse saremo anche senza carbone come ne frega dall'argilla cuociamo la carne poi si rimane un po' di fiamma e cuociamo l'argilla m m io ho trovato cinque cinque caschi di cuoio perchè ti sei fottuto la mia carne marco la mia bellissima carne ne ho messo a cuocere quella di me manzo crudo perchè te lo sei fregato perchè te me l'hai fregato a me ti sei fatto la armatura ma io non ho cuoio fatti tuoi comunque non ho fregato insomma carne guardare se comunque ti facevi gli stivali duravano molto di più e ti davano più protezione del cappello ma voglio proteggere la legge 8 perchè messo a cuocere la carne cotta la carne cotta c'è la carne cotta che sta cuoce cervello marco seriamente perchè sono prenderso si appunto perchè il sole non prende il sole ma seriamente ma seriamente giusto dove una caverna una cavolo di caverna c'è che ti lamenti marco 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 lo so che questo è peggio di perchè il sole non prende il sole lo so questo è firmata by marcus sì ma quelle firmate by simo e l'altra cosa ho trovato caverna forse una mezza caverna ho trovato una canna da pesca e una canna di marivana marco ma ci facevamo ho trovato la caverna marco oh bello c'è un ragnetto qua va a morire va a ragnetto devi morire a ricordatelo cacciatore di mostri ma perchè è successo che io non ho fatto nulla marco ok un attimo un botto di lag è vero che qua mettere in pausa non serve a nulla oh del copper ahhh problemi di connessione ci sei di nuovo marco comodo è andato via un attimo la connessione oh se no sai qual è il problema di juston no avevano finito le patati sono finite le patatine rientro immediato alla base che cavolo poi parte di nuovo e dice juston abbiamo finito la coca cola tornata poi gli danno la light e quello non la vuole la light ritornano di nuovo in base devo montare il mcdonald su la navicella che poi scoperti pensi il mcdonald sulla lungo oh raggio 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 che poi alla fine ho scoperto che non è stato fatto sulla polona non l'hanno detto per andare sulla luna io sono abbiamo un problema si hanno detto in armageddon oh raggio 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 eh che non si può prendere con questo piccolo no no si può prendere se può prendere se come no no si può prendere se ci mette più di un secondo a santa fa aspetta che oh le torce le torce eh le faccio io cretino che non so altro perché non stecchini mi ricordo averli stecchini spariti nel nulla erratta taranana marco oh trotto ferro e va io credo per te marcusano oh mi sa che c'è mio cugino in linea vabbè è un po' bene passire giungiamo pure il terzo la chiamata no a ciccio aspetta comunque ragazzi questo episodio anche se viene un po' più lungo è perché anche non ho registrato per niente durante la settimana quindi spero di altro ragno non lo possiamo prendere che nervi aspetta ciccio pasticcio aspetta e semmo che io con questa lag non non lo voglio di andare lì ti dico una cosa to stai quella è perchè ti ho detto una ho trovato del ferro c'è una fornace che è che mi sta attaccando da solo se cadi ma è ora perdo vita ma so che la casa aspetta che metto a cuocere air fierro se me lo freghi ti uccido allontanati marco io ho messo la workbench quindi mio ferro me l'hai fregato dai io sono un infame shift e sinistro alla velocità della luce yeah dai un altro che mi serve e poi te lo lascia a te no mi chiamo simone no sei infame ho bisogno anche perchè ce l'ho anche io del ferro solo che se lo cuocio me lo fotte ok se mi servirebbe anche me prenditi pure la workbench uranismo manca me un piccone di ferro sai ma dai e fa ma meglio non sprecarlo forse piccone di ferro però io intanto sono intento a prendere il copper con quello di ferro sono un genio se non ci riusciamo a trovare del team della redstone iniziamo già a farci i primi macchinari il c4 un macchinario che sento un ragno quattro foto zombie 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 dai vieni qua no ho voglia di testere oggi mini che dove ragno uranio e come mai l'ace della luce proveniente da un soccoso ciccio pasticcio uranio 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 ciccio pasticcio io che ho detto tu non mi hai detto nulla se tu non hai visto niente dove sei marco soprattutto dov'è sto ragno no ecco dai vieni qua eccesso dai non fare il coglione aranio del kaiser ok crepa marco dove sei marco dove sei è qua più o meno stai fermo stai fermo che dove sei in italia sopra di te ma ecco di qua come fai a trovare dei diamanti lì non so non so se erano diamanti probabilmente la tina perché non si vedeva bene se te lo riconosco subito perché ho un'altra texture che io finito le torce ma non è un problema che dove sei andato te non c'è per niente nulla a parte uno zombie che si sentiva forever alone però io sono bravo e lo uccido lo porto all'inferno almeno non si sentirà più forever alone ci sono tre creeper in fila yeah devo venire subito il mio carbone dove sono? erano proprio incolonnati tu dove sei? sono qua sono qua dietro ho fame di creeper creeper shot aspetta che devo cercare bella un'altra ravina mi sono anche un po' rotto delle ravine io comunque ok fango merda io già finito le torce marco è del carbone temo io io te lo do perchè se hai fregato il mio ferro marcolino oh sto crepando dai o la che ecco ti pareva fitti pizzeri per favore la odio la odio la odio spetta un attimo marco aspettate un attimo ragazzi anche un attimo ok eccoci qui ragazzi ho fatto un piccolo taglietto perchè hanno suonato il citofono ah beh anche a me hanno suonato il citofono aspettate un attimo il titipizzo marco sti con il ciccio scherzo ok gioca l'italia fatemi raggiungere cose di cui non mi fregati tento allo sei caduto di nuovo bravo genio no 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 sono ancora vivo se fammi salire ti odio ti odio marco siamo domani gioca l'italia perfetto fammi raggiungere così scheletro 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 crepa 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 ti voglio bene crepa ok grazie evvp tu vuoi bot ti teletrasporto io marco clipel clip shot va bene ragazzi penso che per questa puntata è tutto ho fatto un taglietto inutile possiamo dire dai vieni creeper l'ultimo creeper della giornata fa boom ok ci vediamo alla prossima puntata ragazzi ahhh scendiamo un altro zombie ciao a tutti ragazzi alla prossima